C'è ancora sulla Val d'Aias, tutta la morena del ghiacciaio di Verra, la goba di Ronnen con il fondo del Cervino, il rifugio Mezzalama, il rifugio Guida d'Aias, il Brighthorn, la roccia nera, questa è Punta Perazzi, col ghiacciaio del Felic, quello lì è il Castore, l'Iscam, il Monte Rosa, quella lì è la capanna Quintino Sella dove proprio andremo a foraggiarsi, tende di accampati e quella è la famosa fine della cresta dove sta ancora arrivando qualcuno, ci avviciniamo un po' e forse vediamo un po' della cresta, eccola là, trasmissioni sospese per ora, questo è l'ognomone di vetta e alla prossima.